Il problema dell'ostoporosi è un problema sociale enorme con grossi costi per la società, quindi parlare di solo costo del farmaco è estremamente riduttivo, perché i pazienti poi si ritrovano nella propria abitazione a dover subire anche dei grossi costi per l'assistenza. Nel momento in cui poi si ritrovano a gestire la terapia, sono pazienti spesso che sono in politerapia, quindi corrono spesso il rischio di sbagliare le terapie soprattutto quando vengono cambiate da tutti i medici che hanno in cura il paziente ogni volta la scatoletta del farmaco con cui prendono, quindi il rischio di confusione è importante. Allora all'interno della terapia, il costo della terapia, questo aspetto, cioè il rischio di mettere il paziente nelle condizioni di sbagliare, quindi di annullare gli effetti della terapia o addirittura di avere un danno è estremamente importante.